La carta d'identità elettronica, la CIE, diventa più versatile e semplice da usare. In breve potrebbe diventare l'identità digitale più utilizzata, superando anche lo speed. Antonella Mazza Teruel, sentiamo. Più veloce e sicura la carta d'identità elettronica, tutti i cittadini in possesso della CIE potranno infatti accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione e dei privati senza aver più bisogno della carta fisica a portata di mano. A dare la notizia è il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Già sperimentata con alcune amministrazioni, da ora in poi per usufruire di servizi digitali si potrà semplicemente inquadrare un QR code tramite l'app CIEID o inserire una mail impostando online una password con un codice temporaneo ricevuto per SMS oppure, la terza scelta, continuare ad utilizzare la carta fisica. Emesso dal Ministero dell'Interno e realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato, l'evoluzione del cartaceo è simile, per formato la tessera sanitaria possiede due microchip con i dati del titolare e le informazioni per l'autenticazione online. Un'identità digitale paragonabile allo SPID, molto utilizzato, che però è gestito da società private a cui lo scorso mese sono state rinnovate le concessioni, anche se il Governo mira a un ID unico per uniformarsi al progetto della Commissione europea, un portafoglio digitale europeo che conserva tutti i dati del cittadino, dalla tessera sanitaria alla carta d'identità al codice fiscale, ma non privo di rischi sul controllo, tracciamento e persino esclusione di singoli.